Oggi è stata una bella partita, abbiamo giocato bene, c'è qualche piccola cosa che dobbiamo fare più attenzione, però loro comunque non giocano, cioè loro hanno giocato, anche in battuta, hanno forzato tanto, sono stati molto combattivi e quindi adesso mercoledì giochiamo con Siena, sicuramente è un avversario tosto, il nostro obiettivo è quello di arrivare a Cuneo a giocarci la Final Four, quindi daremo tutto con Siena e vediamo queste due gare cosa ci dicono sulla stagione.